Mentre crescono i rumors sui nomi dei possibili ministri, il presidente del consiglio incaricato procede negli incontri con le forze politiche nel tentativo di mettere in piedi una squadra di governo che possa ottenere il voto di fiducia in Parlamento. Sui nomi ci sono molte indiscrezioni, anche se per quanto riguarda l'istruzione le previsioni più attendibili sono quelle di chi pensa ad un personaggio proveniente dal mondo dell'economia. Ma procediamo con ordine. Nella giornata di oggi e in quella di domani è in programma un secondo giro di consultazioni nel corso delle quali si dovrebbe entrare nel merito dei programmi in modo da arrivare ad una sintesi politica fra le diverse posizioni. Allo stato attuale Draghi potrebbe avere il sostegno pressoché generale di tutte le forze politiche, ad eccezione dei fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Dopo il sì convinto del PD di Forza Italia, di Italia Viva e dei centristi, anche la Lega ha annunciato di essere intenzionata a votare la fiducia, mentre i fratelli d'Italia di Giorgia Meloni potrebbero astenersi. Nel momento in cui registriamo questo video la posizione del Movimento 5 Stelle è ancora un po' incerta, perché si aspetta l'esito delle votazioni sulla piattaforma Rousseau. Forse solo poco prima del pomeriggio di martedì, quando Crimi, Di Maio e Grillo andranno da Draghi, conosceremo la loro decisione. Resta il fatto che, salvo sorprese dell'ultima ora, Mario Draghi dovrebbe avere il via libera dal Parlamento. D'altronde, stando agli ultimi sondaggi, il presidente incaricato godrebbe in questo momento della fiducia di un buon 70% degli italiani, che farebbero fatica a comprendere le ragioni di un eventuale no da parte delle forze politiche. Ma la conclusione della vicenda non è vicinissima, perché è probabile che Draghi riservi ancora un giorno o due per ascoltare le parti sociali, tra cui sindacati e Confindustria. Successivamente potrebbe recarsi dal presidente Mattarella per riferire sull'esito delle consultazioni. La lista ufficiale dei ministri potrebbe quindi arrivare non prima della fine della settimana. Quanto ai nomi è davvero difficile fare previsioni attendibili, soprattutto perché non è ancora chiaro quanto all'interno della compagine governativa peseranno i tecnici e quanto i politici. C'è da dire che tutte le forze politiche che si sono espresse in queste ore hanno voluto sottolineare che dovrà essere il presidente del Consiglio a formare la squadra, senza troppi condizionamenti. Nel concreto questo potrebbe significare che per il Ministero dell'Istruzione tutte le soluzioni sono possibili. Potrebbe arrivare un politico, molto gettonato è il nome di Anna Ascani del PD, attualmente viceministro, anche se per la verità nelle ultime ore si è diffusa la voce che alla Lega non dispiacerebbe affatto piazzare un proprio uomo a mariale trastevere. Non è però da escludere che alla fine la spunti un tecnico. Si è parlato per esempio di Patrizio Bianchi, ma c'è anche chi sussurra il nome di Pietro Cipollone, economista e già presidente dell'Invalsi dal 2007 al 2011. E su un tecnico di prestigio proveniente dal mondo dell'economia punta chi fa osservare che le simpatie di Mario Draghi vanno proprio in questa direzione. Ovviamente ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni. Quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it scriveteci, mandateci i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie. 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 Grazie a tutti